Oroscopo del giorno, martedì 24 agosto 2021 Ariete Amore Potrebbero esserci dei problemi nella relazione d'amore. Le stelle, infatti, potrebbero portare delle discussioni nei rapporti amorosi e non solo. Oppure per i single potrebbero esserci delle tensioni nei nuovi approcci sentimentali. Lavoro Molto presto potrebbero arrivare colpi di fortuna. Nelle prossime ore possibili novità. Toro Amore Sarà una giornata senza eclatanti colpi di scena, ma non vuol dire che avrete grandi problemi da gestire in coppia. Dovrebbe essere un giorno tranquillo, che non porterà troppe novità ai single che vorrebbero fare dei nuovi incontri. Lavoro Grande forza e conoscenze importanti per il fronte professionale. Qualche buona occasione per oggi. Gemelli Amore Questa giornata potrebbe essere veramente bella, perché in tanti ritroveranno equilibrio e passione. Un buon recupero per tante coppie e qualche buona nuova per i single. Non sono esclusi incontri particolarmente ricchi di emozioni. Lavoro Mercurio dissonante non vi farà stare tranquilli. Avrete un bel po' di cose a cui pensare. Magari non concentratevi solo su questo. Cancro Amore La situazione in amore non sarà delle migliori, nemmeno per oggi. Da domani, peraltro, potrebbero esserci complicazioni ancora più evidenti, sia per i single che per chi è già impegnato in una relazione sentimentale. Lavoro Per questa giornata potrebbero esserci piacevoli novità sul posto di lavoro. Occhio a qualche occasione interessante. Leone Amore Anche in questo martedì non mancheranno i sentimenti e la passione. Il periodo è davvero favoloso per chi ha un partner, ma pure per chi lo cerca. Da domani, il romanticismo dovrebbe essere ancora di più. Lavoro Tranquilla la giornata di lavoro, presto però potrebbe esserci un bel colpo di fortuna. Vergine Amore Umore Umore ancora molto basso anche per questa giornata. La luna in effetti continuerà ad essere in opposizione e sicuramente questo non aiuterà per niente i rapporti nuovi o stabili che siano. Lavoro Le energie mancheranno pure in ufficio e questa forza assente potrebbe provocare qualche piccolo disagio. Bilancia Amore Situazione decisamente buona per questo martedì di agosto, visto che Venere vi bacerà. Tutto bene con i sentimenti per chi ha al proprio fianco una persona speciale. Un giorno piacevole ed emozionante, sia per i single che per le coppie. Lavoro Giornata tranquilla, ma attenzione ai troppi impegni che da domani potrebbero portare già un po' di stanchezza. Scorpione Amore Potrebbero esserci dei nuovi incontri per chi ha al cuore libero, non si può escludere nulla. In generale dovrebbe essere una giornata abbastanza serena e senza grandi novità, soprattutto per chi è impegnato. Lavoro Marte sarà in una bellissima posizione e vi regalerà tantissime energie. Sagittario Amore Venere ormai sta tornando dalla vostra parte e quindi continuerà ad esserci un buon recupero per storie e rapporti. Potrete approfittare di queste stelle di oggi per avere dei miglioramenti con qualcuno. Lavoro Occhio invece a qualche problema sul lavoro. Per oggi sono previsti degli ostacoli da dovere affrontare e superare. Capricorno Amore Con Venere in posizione contraria potrebbero esserci problemi con la vostra dolce metà. Tra l'altro avete in mente tanti pensieri relativi ai progetti professionali e potreste trascurare tutto quello che riguarda la vostra sfera intima e personale. Lavoro Lavoro Ancora un po' piatta la situazione professionale. Vi concentrerete sui vostri soliti impegni. Poche novità per ora. Pesci Amore Buona luna per oggi. Significa che potrebbe aiutarvi in tante situazioni e non soltanto in quelle amorose o in prime conoscenze. Sarà un martedì generalmente interessante che non dovrete nemmeno sottovalutare troppo. Lavoro Energia buona. Vi converrà a mettervi d'impegno perché le stelle non vi aiutano troppo ultimamente. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie